Il bello e il cattivo tempo, piccolo Eliseo in compagnia della regista di un 50% del cast di Ferdinando, testo ormai storico del teatro italiano. Nadia Baldi ci parli della tua messa in scena. Una domanda complicatissima perché diciamo che quando elaboro una regia non parto mai da un presupposto preciso e tendo in qualche modo a essere molto libera e a farmi ispirare anche dagli attori e da cose che in qualche modo secondo me non sono necessariamente predeterminate e quindi sento di essere una persona molto libera, molto dos fuoco alla mia creatività chiaramente legandomi al testo, ai significati, esaltando tutto ciò che il testo in qualche modo è il messaggio che il testo vuole lasciare, però ripeto non parto mai da un disegno preciso in partenza. Mi piace molto che questa cosa cresca nel tempo e che cresca nel lavoro, con chi lavora con me. Io adoro lavorare con gli attori, cioè per me loro sono la cosa più importante e quindi il tutto avviene se anche loro poi entrano in questa dimensione creativa. Ci introduce anche il protagonista. Gesualdina e Gea Martire che è la baronessa Donna Clotilde. Loro sono un po' il motore di tutta la vicenda, chiaramente. Come le hai volute in scena? Come vi ho volute in scena, ragazze? Come vi ho volute? Beh, violente, forti, come già sono i personaggi che disegna Annibale e Ruccello, sono personaggi di grande forza, questi femminili. E questo mi piace moltissimo perché hai detto ben, 50%, l'altro 50% sono due presenze maschili, due personaggi. E anche se Ferdinando è il personaggio da cui poi il lavoro prende il titolo ed è anche, insomma, importante perché è lui che stravolge e travolge tutto, però, insomma, la grande forza di questo testo sono i due personaggi femminili che sono straordinari e io, veramente, un autore come Annibale che ha saputo disegnare due donne così, lo trovo straordinario. Sono donne fortissime, questa forza, credo che nella messiscena nostra di Nadia sia addirittura impetuosa, veramente un impeto fortissimo. In particolare il mio personaggio, che è quello di Donna Clotilde, che sta lì a letto perché si ritira, terrorizzata anzi con l'orrore di una Italia che si è unita e che lei rigetta soprattutto e simbolicamente nel linguaggio. È importantissima la lingua qui di questo testo che non vuole assolutamente sentire neanche in un suono la lingua italiana perché si esprime ed è legatissima la lingua napoletana che è la sua lingua e allora è chiusa e rinserrata in questa sua casa per non assistere a tutto il cambiamento che la fa sentire smarrita ed estranea. Eppure, pure se appare malinconica legata a un letto perché non riesce più a vivere, senti e questo mi piace molto della sua regia perché lei mi ha spinta molto a far sentire fin dall'inizio una forza, una vita che cova sotto le ceneri per cui nel momento in cui rifiuta e rigetta tutto per rinserrarsi da sola tu fino all'inizio senti che non ha proprio rinunciato a niente. Infatti se accade quello che accadrà, cioè l'arrivo del ragazzo che la stravolge e le fa di nuovo desiderare, il desiderio dei sensi, di un nipote, poi giovanissimo quindi le risveglia proprio tutto un desiderio dei sensi e perché lei è comunque sotto le ceneri senti ma fin dall'inizio quanto è viva, quanto è vitale anche nella sua età anche una donna che ormai si sta appassendo ed è trapassata e viva e questa forza l'avverti subito, mi piace molto di questo personaggio e della sua regia. Due parole anche invece con la nipote, la nipote, infermiera, una cugina, una cugina dunque come ci ha voluto, come mi ha voluta? Questa Gisualda è una sorpresa continua, lo è stato per me durante l'allestimento e lo è ancora adesso e credo che sia scritto anche nel personaggio perché attraversa tanti stati d'animo, tante passioni e sentimenti veri, sempre, molto sinceri e sempre stravolgenti e così porta avanti la storia, la sua storia, muove questa storia invece più ampia insieme agli altri e mi sorprende ogni volta nel dolore, nell'amore, nel dispetto, anche nell'accudimento è sempre comunque un po' strana, inquietante bellissimo il rapporto nostro di questa nobile con la cugina povera che la sa povera lei lo sottolinea tanto ogni volta che si rivolge a lei povera, umile, brutta che lei la vedi carina, no? Quanto è bella, però scena del personaggio diventa proprio veramente una segaligna, astitica come le zitelle che zitella lei apparentemente bellissimo perché c'è un rapporto di vittima che all'inizio lei sembra vittima delle angherie di questa sua parente che insomma lei è così forte, della sua nobiltà, delle sue ricchezze, arrogante e c'è questo rapporto meraviglioso di vittima e carnefice che poi si ribalta ed è comunque mai anche dall'inizio mai banale, secondo me mai scontato è sempre un po' anomalo, senti che c'è qualcosa di particolare, prezioso proprio sempre dietro l'angolo e strada facendo sempre di più però anche il nostro rapporto fin dall'inizio viene raccontato in una maniera ricca di sfumature io vorrei ricordare anche Don Catellino, Fulvio Cauteruccio e Ferdinando Francesco Roccasecca perché chiaramente straordinari anche loro e che chiaramente fanno sì che questa macchina messa su questo marchigegno in qualche modo che ho messo su funzioni in grande armonia poi sostanzialmente sono quattro attori molto differenti che però devo dire che tutte le sere riescono invece a restituire una grandissima verità, cosa molto difficile a teatro e che invece noi siamo riusciti ad ottenere insomma ricordiamo che questo è comunque un testo con grandi passioni, trasgressioni ma anche che si gode con un grande divertimento insomma si ride anche parecchio in scena dall'86 mi sembra sì in scena dall'86 noi riteniamo che il divertimento sia il piacere di vedere qualcosa, il godere non la risalta che a volte comunque viene fuori però il divertimento è quando tu fai una cosa che ti piace di fare quando tu assisti a qualcosa che ti fa proprio godere nel momento in cui lo vedi questo è il divertimento a questo punto non resta che dare l'appuntamento fino al 5 di novembre sì al piccolo Eliseo poi dopo avremo Ravenna e stiamo lavorando per la prossima stagione intanto venite al piccolo Eliseo insomma è molto importante assolutamente grazie 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 grazie